Corvino, Corvino, De Giorgi, mancio di De Giorgi, palla che spiove al centrocampo, il mano a quattro, Gucci, poi Anglani, Palmisano prova a piazzare lo scatto, mette però al centro le bozzi, è chiuso, viene a Yesensky, para proprio sulla linea dell'area di rigore, non è fanno, tutto regolare da parte, fatta Yesensky, pallone per Stefanini, lotta con Mancarella, ora sulla versante destro dove l'alta mura guadagna un fanno laterale. Armento, è tutta calda la squadra tamurana, allo laterale di Armento. Spiove in aria, si contrastano Papi e Montrone, poi Montrone che allontana, ma c'è un fallo sul difensore Neredeo, iniziale per il Nardò, Matteo Montrone per Anglani, nuova coppia centrale del Nardò, Fiorentino, Alexi, pancio a cercare Corvino, appoggio per Bozzi, Bozzi, è benedetto, sei un figlio di puttana, a testa di palco, Bozzi è stavolta. Grazie a tutti, grazie a tutti. Pallo laterale per il Nardò, Corvino con la sua lunga gizzata, si appoggia a Papi, ancora Corvino va sul fondo, cross, palla che rimane in campo, non c'è nessuno però del Nardò a raccogliere, Aloisio esce dall'area, appoggia a Bucci, rinvio, ricco spiora di testa, colpa di testa però di Fiorentina. Perchè si abbassava la batteria? Perchè si abbassava la batteria? Grazie a tutti. Grazie a tutti.